Bene, consideriamo ora il seguente esercizio. Dato il seguente polinomio, supponiamo che in meno 7 il polinomio assuma il valore 7. Determinare P di 7. Bene, questo è il momento per stoppare il video e procedere per conto tuo. Ora, osserviamo che questo polinomio ha questo termine dispari, questo termine dispari, questo termine dispari per quanto riguarda il grado. Di conseguenza diventa interessante andare a studiare P di meno x. P di meno x, è abbastanza facile da intuire, è uguale a meno P di x. C'è solo il problema su questo termine noto. E quindi basta togliere meno 10. Allora, di qui deduciamo che P di 7 è uguale a meno P di meno 7 meno 10. P di meno 7 è 7, meno 7 meno 10 meno 17. Grazie. Grazie. Grazie.